Mercoledì 9 Fratelli d'Italia Alleanza Nazionale sarà di fronte al Parlamento per chiedere le firme dei parlamentari e dei leader del centrodestra sulla nostra proposta di primarie obbligatorie per i candidati del centrodestra nelle prossime competizioni elettorali. Mentre qualcuno ci consegna un senato di senatori cooptati e perfino immuni, noi invece vogliamo restituire agli italiani il diritto di scegliere i propri rappresentanti.